Il fatto che viviamo nella violenza non è una giustificazione. Sono dei bastardi vigliacchi, se la prendono con i familiari. Incontrerò il presidente Do. È inevitabile, signore. Non è quello che voleva che facessi, comunque. Teguro! Fermo, Teguro! Teguro, sappi che ci hai salvati tutti. Andrai sull'isola di Jeju. Una settimana basterà. Sei venuto da Seoul per nasconderti. Non è vero? Quello che è stato è stato ormai. Hai una buona mira. Quando sparo, penso a qualcuno che voglio uccidere. Teguro. Non mi dilungherò. Dobbiamo risolvere una questione. Prova a non presentarti. E ci sarà un prezzo da pagare. Il mio capo è stato aggredito. Che cosa vorresti fare? Sentiamo. Un colpo di stato in pieno... ventunesimo secolo. In ogni caso, finite questa storia una volta per tutte. Siamo d'accordo? Non ho nessun altro. Sono veramente sola adesso. Vale anche per me. E poi tu odi stare da sola. MIRR-mi pan kang. Secondo neonatale. Come come. E loということで filippate, Guarda. Guarda. Guarda.